Dio boia, Dio boia, mio cugino di 8 anni, Dio cane, gioca meno di voi, madonna lebra, che cazzo ho sto qua, Dio cane, Dio cane, Dio cane, Dio cane, Dio cane, Dio cane, Dio cane. Dio cane, 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 Dio cane no è la fanculo è buona potremmo bagliare ma lei abbia trovato qualche periferia no non so si dio canale trova te lo presento con il giornale driver perchè non dio canale è passata porca madonna ragazzi oggi faccio un voto domani mattina non vestiti pelli di carta nella tastiera di aprile mi dò che carta ci fai? il cellulare errore carta perchè così in trovergi starebbe errore carta ormai oddio che cazzo ha fatto staccarsi non lo so inspiegabilmente no è strano eh è strano è strano è strano è brutissimo noi prima avessi arportato da F1 a F5 lo so proprio non l'ho toccato la forza del pensiero proprio è dio canale mi è rimasto un po' dentro non avete un martello pneumatico da ma che hai perso questo? questo qua ho del pezzo sotto e allora dio bello come prima non funziona la tastiera però non so se te ne sei reso conto apri un file di word qualsiasi cosa funziona ah che bello che bello che bello che bello lo sia